Abbiamo deciso di fare il nostro cavallo di battaglia, visto che il primo album di Bacini si trattava Cartoon e anche noi avevamo quasi il nostro primo album, ma è oggi Cartoon. Vi interessa? Vi assumete voi le responsabilità, e per questo barbo tiene qualche baronaccia. Anche così ai vostri fargoletti mettete le mani sulle loro orecchine. Reschiamo un attimo, che serve una cartinatura alta per farlo. E' la mia generazione che siete cresciuti qui da noi. NAPONESI! NONMARE! 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 Licci circa dove, amè? a me non sono chiamata A me, in questo – che ero come bettu Noi, alle persone Politicalti in questo Americano, come arriva su come tutta An la voce diются ductioni ma prendente Un'altra la dimensione quella che perceita Oh, 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 oh! E fa l'amore, fa l'amore, fa l'amore! E fa l'amore! E fa l'amore, fa l'amore, fa l'amore! E fa l'amore, fa l'amore! E fa l'amore, fa l'amore! E fa l'amore, fa l'amore, fa l'amore! E fa l'amore, fa l'amore! E fa l'amore, fa l'amore! E fa l'amore, fa l'amore! Grazie Francesco per questo cammino che ci ha arrivato! Grazie! 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 Grazie!